Disposta dal sindaco di Niscemi la sospensione dell'attività di un'azienda attiva nel settore delle conserve alimentari, con il titolare dello stabilimento che si è visto infliggere anche una multa di 12.000 euro. Un provvedimento arrivato a seguito di un controllo dei carabinieri del nucleo antisofisticazione di Ragusa, i quali hanno accertato che l'industria niscemese lavorava in assenza dell'autorizzazione necessaria per lo scarico dei reflui di tipo domestico e dell'impianto di depurazione provenienti dal ciclo lavorazione dei prodotti agroalimentari, particolari che per gli investigatori costituiscono di fatto delle gravi violazioni in materia ambientale. La legge prevede che gli stabilimenti per evitare l'insorgere di danni ambientali abbiano precisi requisiti per ottenere le necessarie autorizzazioni in tema di vigilanza sui limiti degli scarichi inquinanti.